Ehi ciao, io sono Dav e questo è il mio canale, non ti ho mai visto passare di qui, mi sa che sei nuovo, tenetici di andare a vedere uno dei miei numerosi video, sai io faccio due video al giorno e faccio dei video molto vari tra cui horror, giochi divertenti e così via, quindi vai a vederti uno dei miei video e se ti piacciono iscriviti, grazie per aver visto questo hotel, noi ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti!